Il 23 dicembre del 2016 tre amici di Atena Lucana persero la vita in un incidente stradale. A circa due anni da quella tragedia arriva il rinvio a giudizio a carico del camionista che investì con il suo tir l'auto su cui viaggiavano Tonino Petrone, Tonino Schettino e Serafino Cicchetti. Il GIP presso il tribunale di Lago Negro ha deciso che Salvatore Nardone deve essere sottoposto a processo per omicidio colposo. Al termine delle indagini è venuto fuori che la causa del sinistro è stata l'alta velocità. È stato accertato che il camionista di Formia era alla guida in perfette condizioni fisiche, non era sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti ma la velocità con cui conduceva il tir non era adeguata al tipo di strada. La prima udienza dinanzi alla giudice monocratico è stata fissata per il prossimo 21 maggio. L'incidente mortale si consumò sulla strada statale 598 nel comune di Atena Lucana in cui vivevano i tre amici diretti a Brienza per prender parte alla veglia funebre di un camionista di 39 anni morto a Ravenna a seguito di un'esplosione di una cisterna. Era appena iniziato il loro viaggio a bordo di una Renault Scenic quando si scontrarono frontalmente con il tir condotto dal camionista di Formia. Tutti e tre morirono sul colpo.